ciao perché sono qua oggi per due motivi innanzitutto mi piace questa bellissima caffetteria e in centro e mi piace questo bellissimo open space e quindi non ho profittato per prendere un caffè e il secondo motivo è che sono arrivati gli occhiali di matteo un negozio che molto vicino a qui e un'altra cosa esattamente un anno fa abbiamo aperto il nostro canale youtube era il 24 febbraio del 2019 ed è uscito il nostro primo video e questo è stato il nostro primo video ciao a tutti noi siamo roberto e valentina e siamo piemontesi e da circa un anno o poco più viviamo a lipsia in germania quello che avete appena visto era un piccolo spezzone con il nostro primo video che dura poco più di un minuto c'è link in alto a destra o a sinistra in alto riguardandolo mi rendo conto che mi sarei potuto preparare un discorso all'epoca infatti non l'avevo fatto o col seno di poi avrei potuto fare un taglio però all'epoca non sapevo assolutamente nulla di come si facesse e mi fa un po sorridere vederlo però è stato l'inizio di tutto quanto e quindi è stata parte della storia del nostro piccolo canale cosa mi ha portato youtube un po più di spigliatezza quello sì perché come ho detto già era una timida cronica e quindi mi sono un po sciolta è una bella dose di distacco ma distacco positivo quando abbiamo iniziato questo viaggio all'epoca non sapevo dove ci avrebbe portato non sapevo assolutamente cosa fosse l'editing e come si facesse non avevo la più pallida idea di dove prendere un programma di editing da dove cominciare e così ho provato con vari programmi guardando tutorial cercando di capirci qualcosa all'inizio ci mettevo delle ore anche solo per fare quello che adesso magari ci mettere i cinque minuti a fare e devo dire che è stato bello comunque imparare a fare qualcosa che non penso di essere diventato bravissimo però comunque qualcosina in più so fare rispetto a prima visto che sono partito praticamente da zero adesso vedo male un video riesco a editarlo almeno peggio e in questo ultimo anno devo dire che ho imparato a essere forse un pochino più spigliato all'inizio quando parlavo davanti alla fotocamera sbattevo continuamente gli occhi mi bloccavo mi veniva ansia invece adesso penso anche che se giro una scena magari mi impappino posso fare un taglio posso rifare la scena non succede niente di grave quindi sono abbastanza tranquillo davanti a una fotocamera e questo mi fa piacere che comunque è stato un miglioramento anche il fatto di fare i video mi piace perché bisogna sempre cercare qualcosa di interessante qualcosa di nuovo e anche il fatto di doversi documentare per raccontare magari un qualcosa è bello perché imparo delle cose nuove ed è bello anche mettersi in gioco perché alle volte faccio delle cose che non fare nella mia vita normale ho fatto per esempio un video in cui dovevo passare una giornata spendendo solo 10 euro ed è stato comunque divertente ho fatto tutte delle cose che non avrei fatto e per questo sono assolutamente felice e voglio continuare cercare di crescere volevo comunque dirvi grazie perché comunque tutto merito vostro se il canale è cresciuto e siamo arrivati più di 100 iscritti e grazie a tutti e continuate a seguirci e noi cercheremo di mettercela tutta sia io che Valentina sicuramente quello di degli assaggi delle cosine tedesche anche per me quello è stato divertente se invece parli di video a cui sono affezionata beh a parte i video di viaggi quindi per me il video sulla Turchia e sulla Gran Bretagna ed Irlanda sono stati viaggi splendidi e quei video per me sono speciali e per me forse potrei dire il video di l'edimburgo perché comunque secondo video superare le mille visualizzazioni ed è quello che ci porta più tempo di visualizzazione e poi è stato il primo è vero vlog ho capito un pochino come si faceva il vlog ho cominciato a entrare un po nell'ottica e mi piace perché è stato divertente farlo e poi che posti gente che posti quando ti ricapita di andare da quelle parti speriamo presto assolutamente ma non a l'edimburgo abbiamo tanti altri viaggi pronti cosa non mi piace di youtube diciamo che non mi è mai piaciuto troppo il fatto di mettere un po in piazza le nostre vite io sono un po restia però capisco che fa parte del gioco e mi adeggo bisogna giocare per quanto mi riguarda il fatto di avere un pochino di ansia ogni settimana perché devo trovare qualcosa qualche argomento un'idea nuova girare il video lavorarci su che comunque richiede parecchie ore anche per montare il video e parecchia fantasia per trovare qualcosa perché non è che tutte le settimane abbiamo l'argomento tac però c'è anche il fatto che voglio cercare di essere costante anche se talvolta non ci riesco e quindi tutto questo mi genera stress anche se dobbiamo dire tutta la verità un pochino di stress ci vuole nella vita perché fa anche bene un pochino di stress basta che non abbiamo fatto amicizia di recente ha avuto una figlia da poco ogni tanto ci sentiamo e anche loro trattano dello stesso argomento quindi se vi può interessare potete iscrivervi anche al loro canale o comunque dare un'occhiata e loro abitano vicino a colonia dall'altra parte della germania che secondo me è più bella no la germania dell'est è meglio per favore questo video volge al termine se vi è piaciuto lasciate un like o like iscrivetevi al canale e commentate se volete come sempre e fateci sapere la vostra se avete anche voi qualche domanda o qualche curiosità da scriverci scriverla pure nei commenti e noi ci rivediamo a un prossimo video molto presto alla prossima quindi cos'è che non ti piace di youtube domanda per entrambi prima tu matteo che piange scherzo